Per comprendere meglio cosa sono le azioni, immaginale come porzioni di una grande torta aziendale. Quando le compri, diventi in un certo senso un mini proprietario della società, un suo azionista. Ora, come funzionano? Una volta in possesso delle tue azioni, il guadagno potrebbe venire da due parti. Se il valore delle tue azioni cresce nel tempo, puoi generare un profitto quando le vendi. Dall'altro lato, c'è la possibilità di ricevere dividendi, ovvero una piccola fetta degli utili della società. Non bisogna mai dimenticare però che esistono anche i rischi. Il valore delle azioni può oscillare su e giù a causa di notizie, eventi o fluttuazioni del mercato. Se l'azienda di cui hai acquistato le azioni non funziona bene, l'investimento potrebbe trasformarsi in una fonte di perdita e non di guadagno. D'altra parte, bisogna considerare anche i benefici. Le azioni possono darti rendimenti interessanti nel tempo. In più, se diversifichi i tuoi investimenti su azioni di settori diversi, puoi limitare un po' il rischio complessivo. Vorresti approfondire le varie forme di investimento e acquisire nuove conoscenze finanziarie? Seguici per altri contenuti sul mondo dell'economia, sui nostri canali social.